I finanzieri di Bergamo hanno arrestato un imprenditore sequestrando opere d'arte e disponibilità finanziarie per ben 25 milioni di euro. I due provvedimenti del Tribunale Eurobico sono stati emessi al termine delle indagini sulle procedure avviate dall'imprenditore per fare emergere le sue disponibilità detenute all'estero. Nei suoi confronti infatti fin dal 2015 era stata aperta una verifica fiscale. Per versare al fisco importi ridotti l'imprenditore si era spacciato per collezionista, commercializzando poi sculture e dipinti d'autore. Ora l'uomo deve rispondere in Tribunale di autoriciclaggio per aver ceduto ad una cliente opere per oltre 11 milioni di euro, mettendole a disposizione il denaro necessario per l'acquisto. Per rientrare dei fondi non versati all'erario per la sua attività, i finanzieri hanno posto sotto sequestro 77 opere artistiche con dipinti di Hayez, Bruegel, Van Vitelli, Manzoni, Fontana e Boldini. Bloccate anche oltre 200 opere di autori italiani del calibro di Canaletto, Modigliani, Arcimboldi e Basquenis.